io provo ad andare a prendere del pesce anch'io vengo con te anche con l'ascia? c'è una pietra? si ma da me non ce n'è zero proprio e sto percorrendo tutto il fiume ma niente mi ho guardato solo uno cioè io esplorerei pure ma non abbiamo uccide sono finito in una zona autunnale vengo ma sei lontanissimo da me no ho beccato il coniglio vengo vicino a te vediamo se qua le trappole hanno preso qualcosa ovviamente no si cosa hanno preso? ah no niente solo che una è scattata ma non ho preso niente oh 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 c'è un sentierino qua non si chiama davvero così come si chiama? ho trovato una pianta che si chiama Achillea senti io torno nella zona dell'elicottero per vedere se abbiamo dimenticato del lutto casse cibo in scatola batterie munizioni monete granata soldi basta la smettiamo guarda me pieno di uccelli mi riempio di piume è forte è forte eh levati un pannodone ok ho preso un botto di caldo guardalo gente ti porto gente adesso preparati che ti porti gli amici arriviamo eh siamo in nove dove? no su serio? per portarli a casa sacca per portarli a casa no mica vengono qua e vabbè muori madonna che vento minchia qua c'è un punto di quelli viola che mi segna che però non è in mezzo al mare tipo cioè è proprio in acqua me lo segna adesso mi faccio un po' di frecce comunque ok adesso sono pieno di frecce in teoria e mi sa che dobbiamo buttarci malamente in acqua comunque vedo il punto ok lo vedo dai vai vai tipo una mummizzata dove se ce l'ave ecco da qua da qui si da qua su con calma con calma pistola serio? oh c'è in mano oh localizzatore localizzatore gps bengala va di bengala dove la pistola eccola localizzatore gps ah vedi perché i punti viola è questo che ci lascia i punti viola perché sono dei localizzatori messi in giro ok non prendo la pistola wow quindi sono così tanta roba la pistola eh oh mio zio che strano vale io stavo scherzando c'è uno squalo davvero non lo so io non lo vedo più non lo vedo più vai 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 via via corri 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 fidati corri nuota eh corri nuota c'entra io sto vedendo dietro ma non c'è no non c'è non c'è ti sparo in testa vale ti sparo giuro che ti sparo fai bravo non mi chiedi più da mangiare va bene resina per stampante come resina per stampante dove l'hai trovata? non lo so non ho capito oh la pistola c'è si usa nei casi estreme io adesso ce l'ho in mano così giusto per però c'è a meno chi non arriva un mostrone che ci attacca la casa quella caverna che ci segna è nuova aspetta lo vediamo te lo dico subito una caverna oh mio dio si tochi adesso qui aspetta non metterlo a lancia no io tengo la mazza perchè lancia e mazza è un bel madonna che stretta oh dio cazzo siamo sesto posto vai dove cazzo siamo cos'è sta roba? la stampante è la stampante 3d stampa e stampa le frecce no e quindi cos'altro puoi fare? fiaschetta maschera maschera rampini tessuto termico slitta allora proviamo fiaschetta maschera rossa collezionata batterie perché? tu non la puoi cioè tu la puoi solo tenere in mano oh mio dio non ho capito a cosa serve però io credo serva per mimetizzarsi tra gli indigeni perché hai visto che è pieno di indigeni con le maschere? eh? eh sì noto sì sì grazie per il fuoco è assurdo sta cosa comunque oh oh che ha tanto incendio perché c'è il gps che squilla? ah chi? no era meglio non farlo era meglio non farlo chiudi chiusi sta forza non si può non lo so no no c'ho paurissimo no 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 io c'ho ansia non mi piace questa cosa mi devo mangiare no spegniti macristi mi fa allarme di merda non si spegni sta roba c'è un interruttore ma la c'è una luce eh lo so adesso ci andiamo levo il fuoco parallel di universo cos'è sta roba? cazzo eh? non è ghiaccio è tipo roba gelatinosa oh ma chi? ma dove cazzo? qua si può serve la keycard shhh c'è una musichetta e allora ci dovremo tornare qui lasciamo invece andiamo a vedere l'altra caverna l'altra caverna che avremmo visto questo qua vicino trovata? cos'è sta roba? bastone sordente eccolo a destra è a destra è qua piccolo è buono questo eh ma ma non si scarica spero si 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 scarica qui comunque è nuova sta caverna non l'abbiamo già visto ok questa e poi basta quante grossa aspetta aspetta che di chillo e mail tasso destra ah è vero tasso sinistra sinistra allora rob blu paffni industries.com questo è ciò per cui questo è ciò che stiamo cercando e c'è inquadrata quella specie di roccia che ti ho detto che sembra roccia ma in realtà sembra un agglomerato di carne croce allora croce cosa vuol dire? eccola croce allora ragazzi adesso vi illustrò io a cosa serve questa croce è la modalità dove tu vuoi giocare a questo gioco però dici ma me la violenza non mi piace quindi proviamo a esorcizzare i mostri occhio alla gente non lo sentite io oh mio dio cosa cazzo è ma non può andare avanti sta merda fa dei fersi bruttisi fa dei fersi bruttisi senti io provo a tirarli una molotov no non si fa niente sta bruciando? non mi interessa è inquietante io non voglio vederlo fa schifo quindi andiamoci ma qua c'è roba bomba temporizzata si si l'ho presa io prima io ho paura che appena noi ce ne andiamo questo qua ci segue no io se sento anche solo una pietrolina che si spacca dietro di me ma ti giuro che non corro come non ho mai corso in vita mia allora faccio un rifugio e salviamo va bene ragazzi madonna che bella sta qua direi che è stata una live molto molto avanzata tanta tanta roba quindi ci vediamo ciao